Se Pistoia deve a Compostela il culto di San Jacopo grazie alla donazione nel 1145 di una religia dell'Apostolo, oltre 700 anni dopo sarà a Pistoia ricambiare il dono permettendo la certa identificazione delle spoglie di San Giacomo. Il maggiore accadde nel 1884 quando Papa Leone XIII ne chiese l'autentificazione dopo il ritrovamento. Erano infatti state portate via nel 1589 per timore di un attanco, niente meno che del corsaro Francis Drake. Per identificare il corpo a Santiago prende la nostra reliquia pistoiese, quindi quella piccola parte dell'apofesi mastoidea che è conservata nel famoso reliquiario di Ghiberti. La conferma del legame centenario tra le due città e di riconoscimento da parte di Compostela del ruolo di Pistoia arrivò poi con la donazione alla città toscana di una copia del Codex Calistinus, meglio noto come il libro di San Giacomo, tra i più importanti documenti del Medioevo e definito la prima guida del cammino di San Jacopo. Questa riproduzione ci è stata donata dall'archivio della cattedrale di Santiago di Compostela proprio a riconoscimento dell'importanza della città di Pistoia e del ruolo nel culto jacofeo. Figura centrale nella storia della reliquia pistoiese di San Jacopo il vescovo Atto, cui si deve il suo arrivo in città e dal quale sarà dedicato un convegno di studi durante l'anno santo. Ci sarà anche un'interessante appendice scientifica perché lo scorso anno, proprio in previsione di questo anno santo, è stata fatta anche l'indagine del corpo di San Tatto.